ben tornati a tutti ragazzi da marco azzurro napoli che va a glasgow che va in scozia dopo il minuto di silenzio per la regina elisabetta e fa tre pere al rangers sono davvero felicissimo di questa prestazione sono davvero contento ragazzi però ci abbiamo comunque un problemino ci abbiamo comunque un problemino so che non voglio essere quello che trova i guai dappertutto però c'è un problemino ragazzi in questo napoli ovvero il rigorista non c'è quindi piccolo mini sfogo all'interno di questo video in cui godrò dall'inizio alla fine però è un piccolo sfogo che va fatto zielischi non è un rigorista non lo era empoli non lo era con sarri non lo era con ancelotti non lo era quando tutto il napoli era infortunato ditemi perché adesso deve essere il rigorista di questo napoli che ha kvalaschelia che abbiamo visto che gli sa tirare politano che oggi si è preso il pallone è andato lì e ha trafitto il portiere perché deve tirare i rigori zielischi non l'ho capito detto ciò tra lasciamo questo dettaglio poi magari adesso da inizio da qui a fine anno ne tira 20 e li segna tutti quindi tra lasciamo il discorso che grande vittoria che grande partita ragazzi così si si dimostra di avere la mentalità così si dimostra di andare su qualsiasi campo e attaccare imporre il proprio gioco giocare il proprio calcio e questo che mi piace di questo napoli questo napoli va dovunque e gioca il proprio calcio napoli imposta la partita così per la porta a termine così ora lasciamo stare che la partita è stata decisa da diversi episodi i calci di rigore però come abbiamo visto i calci di rigore poi bisogna saperli tirare e il calcio di rigore di ipolitano è un rigore pesantissimo che ha spaccato la partita perché il re il glasgo i rangers sono una squadra fisica il glasgo i ranger scusate ancora la confusione sono una squadra veloce che ha aggredito dal primo minuto e il napoli ha sempre giocato il suo calcio non si è mai disunito il napoli aveva un'idea ed ha portato avanti 94 minuti di partita poi vabbè l'entrata di raspadori in dombele ha completamente dato il colpo di grazia perché sono entrati giocatori freschi con voglia di fare e abbiamo visto il primo gol europeo di raspadori sono felicissimo per lui veramente grandissimo e che ragazzi ma è un gol che ha praticamente spezzato le gambe ai rangers e poi ragazzi il 3 a 0 di dombele proprio a stecchirli quindi veramente sono felicissimo sono felicissimo anche per un ragazzo di 22 anni che si sta vivendo un sogno ed è alessio zerbin sono felicissimo per te alessio ve lo dico io adoro alessio zerbin è un giocatore che ha fatto tanta gavetta primavera napoli è andato in prestito al frosinone ha fatto una gran stagione al frosinone e ora sta giocando le partite di champions sta giocando in campionato e voglio fare un applauso a spalletti che fa giocare i giovani perché zerbin spalletti potrebbe sembrare che visto il 3 a 0 lo butta quando il risultato è ormai salvo no spalletti mette zerbin al settantesimo quando stavamo 1 a 0 e la partita poteva ancora essere ribaltata o ragazzi zerbin potrebbe tranquillamente essere uno dei migliori in campo oggi c'è veramente ha fatto 20 30 minuti di qualità di fisico di velocità mi è veramente piaciuto tanto e sostituiva politano che il match winner della partita un giocatore secondo me oggi il napoli ha avuto anche un apporto difensivo perfetto perché lì dove non riuscivamo a superare la fisicità dei giocatori scozzesi tornavano kvaraskelia e politano ad aiutare i terzini ed è stata una cosa che è stata elogiata molto anche dai cronisti oggi in diretta è veramente ragazzi è una cosa che ha deciso la partita perché praticamente sulla fascia difendevamo a due con quattro terzini ma perché kvaraskelia e politano tornavano in una maniera perfetta quindi veramente ragazzi io sono felice per la via che sta prendendo questa squadra una squadra giovane una squadra che propone calcio è una squadra con giocatori che hanno sempre da far vedere perché raspadore ora viaggia sulla scia dell'entusiasmo del gol contro l'aspetto contro lo spezia però un dombele per esempio ragazzi era un fallimento fino ad oggi è entrato ha fatto 20 minuti di qualità ha segnato e adesso anche in dombele potrebbe avere quella grinta quella carica l'ho visto più felice oggi finita la partita in dombele è sempre un giocatore un po' musone l'ho visto veramente carico zerbino un giocatore come zerbino è così ti fa minuti in champions è veramente tanta roba e oggi forse è mancato un po' kvaraskelia ma non si può dire niente a lui perché anche oggi ha devastato la fascia sinistra anche oggi dribbava tirava ha avuto occasioni che che cosa vogliamo dire a questo giocatore non può fare gol sempre questo lo dobbiamo capire è comunque un'ala e da ala sta facendo una grande stagione ciao a tutti forza napoli sempre ha pure perso la juve quindi godo ciao